Zoe, oggi dobbiamo costruire una macchina da corsa, proprio perché dobbiamo farci le gare Sì, proprio così Ok, allora vai, perfetto Allora, innanzitutto quello che dobbiamo fare è prendere la base della macchina che è fatta di alluminio Cosa preferisci tra moto e macchina? Scrivilo qua sotto le commenti, mi raccomando che ti lascio il cuore Poi prendiamo il vetro per le finestre e le mettiamo tutte quante qua dentro E poi ovviamente lui inizierà a costruire, come vedi, a saldare tutto Ahà, e come si chiama lui? Si chiama Genoveffo, poi da qua si va avanti Dai Genoveffo Metto i sedili, qua prendo il motore perché mi serve appunto, perché altrimenti la macchina non va, ok Andiamo qua da questa parte avanti Ah, qua devo saldare, devo saldare per benino, quindi faccio così Uno, ecco, devo prendere tutto, le saldature bene Ecco qua, perfetto, guarda, sto costruendo una 500 praticamente della Fiat Bella, perfetta macchina da corsa Sì, praticamente sì, e adesso metto qua, ok, e posso finalmente costruirla, ok, bene, devo mettere ovviamente le ruote altrimenti con il cavolo che guida Presto lascia like in questo esatto momento per farmi creare la macchina Tre, due, uno Ecco qua, ed ecco che abbiamo costruito la nostra bellissima macchina Oh, guardala, che serina E lui sai chi è? Lui è l'offerente, l'offerente che ci permette appunto di vendere le macchine Una goccia d'aria sta cadendo dal, oh, in che senso è una goccia d'aria Comunque, ora mi sta valutando quanto potrei vendere questa macchina e speriamo che la posso vendere tanto, insomma Vediamo un attimo I soldi, dai, dai, dai Oh, vediamo un attimo, allora, 7000, 6000, 6000 Le offerte più alte hanno una maggiore probabilità di essere truffe Ah, hai capito, Zoe Devo stare attento allora Beh, allora prendo quella in mezzo Perché secondo me quella lì No, vabbè, dai, penso che per la prima Dai, cioè dai, 7000 Ti prendi più soldi No, 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 non voglio essere truffato, devi stare attento Non voglio rischiare Eh, no Cosa sono? Oh, metti tutto quanto, gratis Oh, guarda, vero Oh, sto abbenendo praticamente la mia zona Baratto Oh, ok, per la benzina La benzina Eh, rocce, barriere e cartelli di legno Oh, vediamo Eh, però costano un sacco, vabbè, ormai Wow Ok, no, da me io non ho davvero un sacco di soldi Secondo me costano un po' troppo Oddio, già però, sai cosa sarebbe la cosa brutta? Fare così e andare avanti e fare così Eh, però Sbri, aspetta Cioè, dovresti stare soldi per le altre cose Hai ragione, cavolo Però non lo so Mi sono, a me piace avere tutto quanto Pianta, deposito, attrezzi e telecamere di sicurezza Non credo che mi serva Ma vabbè, dovresti continuare a prendere le cose qua Giusto E cose qua Poi dammi una mano tu, lo puoi fare? No, non posso Ma non c'è un modo, tipo, per raggiungerti con gli amici Magari mi dai una mano No Puffa, sarebbe troppo bello Vabbè, comunque Facciamo una cosa Dov'è il tuo trasportatore? Sta lontano, vero? Eh, lontanino, sì Eh, allora facciamo che rimani qua con me Perché non voglio rimanere da te Eh, poverino Poi mi sta già solo E qua cosa c'è? Eh, credo Cos'è c'è lì? Scusa, aspetta Non ho visto Adbo Wow Ma, aspetta Ma è un altro Provoci così Provoci Oh, vediamo Cosa accade? Eh, ma mi sa che costruisco una cosa diversa Forse il motore Vediamo 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 Eh, però non ho auto esclusive Che significa? Ah Però vuole Tre di metallo Aspetta, magari Aspetta, magari adesso funziona qualcosa Intanto con me sto facendo la macchina lì Eh no, ma devi fare le macchine esclusive Aspetta Eh, però ho messo tre Tre Eh no Uffa Dai, io voglio le macchine esclusive Dai, fa niente Vediamo se è comoda abbastanza questa macchina Vediamo Sì, è abbastanza, abbastanza comoda Non lo fai Ora devo saldare Attenta Non, non Non sconcentrarmi No Devo saldarla per benino Ecco E se la saldi male Eh no, non va bene Bel colore Sì, sì, bel colore Bel colore Ok, adesso dobbiamo fare le finestre in questo modo Ok Vai Ok E adesso le ruote Le ruote Uno Però voglio vedere un attimo Che se con i punti posso magari prendermi delle macchinine Ok Intanto con le gemme cos'è che compro? Negozio Allora, offerte Ah, posso comprare le macchine Perché poi logicamente queste macchine servono per appunto fare tipo da corsa, capito? Con tanti gemme Sì, sì Ok, ma cosa mi servono le gemme oggettivamente? Con tanti denaro, vabbè Eh, cosa mi servono le gemme? Che mi servono? Aspetta Oh boh Eh, codici, automobili Ah, posso prendere altre cose? Mm Ah, per gli upgrade Quindi per andare più veloce Cioè, per correre più veloce Per poter portare più oggetti Ah, una gara del server sta iniziando Entra Eh, ma siamo senza macchina Penso Ma no, ma io ce l'ho costruita Tu non l'hai costruita nel tutorial? Sì, l'ho costruita Ok, io sono pronto Ma ci saranno quelli che avranno la macchina più bella della nostra Logicamente Guarda lì Come sono pronti proprio Ma dove siamo con la macchinina brutta? Infatti Dai, pronta? Molto triste Sì, pronta Ma perché io sono indietro? Ma, 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 ma Oh, sono primo? No, io sono prima No, vabbè Ma quello mi ha superato Non vale Madonna Vai a schiantarti Mannaggia a te Ah, mi sono schiantata io Mannaggia No, come ti sei schiantata? Sì Sono secondo Beh, meglio di niente onestamente Ok Mamma mia Ragazzi Guardate quanto sono bravo Ma io mi schianto Non schiantarti Zoe Non hai mai giocato un gioco da corsa? Eh, no Ah, mi sono schiantato Non ho detto Non hai mai giocato un gioco da corsa Oh, finito Ah, no Ah, ok Ci sono tre giri Eh, tre giri Non è che magari Ah, comunque Ma anche se vai nell'erba Anche se vai nell'erba Voi comunque veloce Quindi puoi anche tipo Tagliere le strade volendo Se sei brava brava Ok Ma ti sembro brava brava Dai Zoe Non sottovalutarti ogni volta Tu sei più brava di me Dai, forza Diciamo Ah, tu dici Allora ti superò Ti superò Sì A scantarti però Ah, senta che devo superare questo tipo Ho superato Oh, hai messo due Che significa hai messo due? Eh, penso alla posizione È uscita la macchina È arrivata anch'io Ok, bene Oh, cosa fai? Mi stavi per inchiodare Io devo capire Come ritorno nel mio posteggio? Eh, devo andare su Ah, per tracciare Ok, perfetto Non capisco cosa significhi Però va bene Penso che sia un po' Fatto male, diciamo È vero Il problema È che diciamo Come costruisco una macchina diversa? Proprio stai lì vicino? Eh, sì Ah, ma te la sei fatta a corsa a piedi Verso questa parte Adesso sono arrivato qua con la macchina Ci ho messo due secondi Eh, perché prima non sopevo Potesse uscire la macchina Ok Piccolo, medio, sport, lusto, industriale Ah, madonna mia Nuovo speciale Eh, vabbè Ma che belle macchine che ci sono qua Sono bellissime Aspetta, piccolo Oh, posso comprare una Smart Ma costa un delirio la Smart Ma scusa Ma non posso venderla io questa Tariffa 500 euro proprietario Non posso venderla Ma io ho creato Ho appena creato una Smart Vabbè Come hai creato una Smart? Ve lo giuro Vieni nel mio posto Vieni, vieni Veloce Ho fatto creare una Smart Io pure voglio creare la Smart Vieni, guardala Guardala che forse l'ho capito Come si fa Intanto prendo Vabbè Vieni qua Guarda Guarda qua Che carina Ma Zoe, ma Io non vedo niente Non vedo niente Cosa? Non lo vedi? Pani disable boost performance And rejoined Ah, ok Aspetta un attimo Ok, ora lo vedo Ora lo vedo Eccomi qua Oh, ma dai Ma non vale Ma com'è che posso Come fai a fare una Smart? Io pure voglio farla Allora, te lo spiego Praticamente Quando vai Selezionare le macchine Vieni qua Vieni qua Ah, lo sapevo Mamma mia Quando vai qua Parli col bro E dici Ah, comprami un'altra macchina Però devi avere abbastanza soldi E poi quindi vai avanti Tipo ora l'ho fatto di nuovo E quindi oltre questa macchinina Ora dopo dovrei fare una Ancora più grande Ancora più Wow Ok, ok Quindi se io metto qua Mi fa Non ti aiuto Eh, ma non è tu, eh Mi ha bisogno di iniziare presto No, non voglio iniziare Ora vado da me E vado a farmi una bellissima macchina Comunque io sono nei monti Cioè sono tre i monti Cosa sono nei monti? Ci sono tre i monti Tipo sono lì sopra Aspetta, aspetta Non te ne andare Aspetta Ho sbloccato una nuova macchina No Un'altra Una nuova No, no Non voglio vederla Non voglio vederla Vabbè, mai Non l'ho vista Non l'ho vista, sai Ok, va bene Ok Voglio Oh, vai Aspetta Una goccia d'aria Sta cadendo Che significa Oh, ho beccato tipo Una prova a tempo Devo fare una gara No, non volevo No, così Farla per forza Farla per forza Cavolo Ok, va bene Io sarò velocissimo Sono veloce Voi veloce Come il vento Ma, 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 ma Ma, ma Ma, ma Certo È un po' Però sai che le Sai che le Che le 500 sono veramente belle Da usare per Per le gare, eh Cioè io lo so Cioè io so Io sono amara Però non Non so proprio la macchina Cioè, hai capito? Però comunque È abbastanza amaranza Hai ragione Allora, eccomi qua Ok, andiamo un attimo Dove siamo Ah, ma mi ha dato Un botto di soldi Facendo le prove a tempo Avevo mille E mi ha dato 22.000 Porca miseria Wow A me adesso Per le macchine Mi danno 10.000 Oh, mio Dio Oh Mamma mia Sto per fare un salto Vediamo un attimo Le macchine qua Che voglio Un attimo È nella mia zona O sono io nella sua zona? Questa è la mia zona Sì, ma ce la fai Questa è la mia zona Chi è questa tizia? Ah, è quella che lavora qua Ma che idiota che sono Pensavo che fosse un player Ti giuro Ma sì Ma sì, in serio Ok, va bene Ho speso praticamente Tutto il mio patrimonio Ho comprato una BR-V3 Bu, va bene Io che punto sono Io sono Pure io ho la BR-V3 Ma davvero? Ok, sta funzionando Mi sto facendo la macchina Dei miei sogni Oddio, che bella Poi è pure blu Ma è bellissima Che pure blu Fortuna Ok, bene così Ok, ecco qua Ok, va avanti E questa macchina Guardate che bella Madonna mia È bellissima No, se l'ho stata scammata Come sta? Ah, perché hai preso Quello più grande Il prezzo è Quello che accade Insomma, devi stare attenta Io ci ho provato Devi stare attenta Devi stare attenta Questo è quello che accade E questo è quello A cui tu vai in fondo Per questa qua Danno 49.000 E ve l'ha dati 49.000? Come 49.000? Sì, per questa qua Per la BR-V Sì Oh mio Dio Oddio Vediamo Vediamo quanto mi dà lui 40.000? Oh Gesù Ok, questo qua 52.000 È uno scam Mi prendo questo E mi ha dato i soldi Perfetto Beh, dipende da Se ti fanno una linea rossa Se hanno una linea rossa È uno scam Sì, vero 151.000 per la prossima Ma che bella Ah, ma praticamente Io devo Ma non posso Ah, devo comprare Un employee Così fanno loro tutto Ah Fatto Ok, mamma mia Adesso praticamente Basta che gli metto I materiali In teoria E loro dovrebbero fare Tutti Un sacco di macchine Fanno tutto Sì, sì, sì Praticamente Ora dovrei tipo vedere Eh, però C'è nessuno a questa parte Mannaggia voi Nessuno che mi fa le saldature Eh, io devo farlo purtroppo Vabbè Devi fare tu Dai Ora mi prendo Oddio Ok, bene Ora mi prendo Vedo un attimo E vedo se riesco a comprare Altri tizi Vabbè Che detta così È veramente brutta Però è Dai, hai capito Vabbè Assumere altri tizi Assumere altri tizi Assumere altri tizi Esatto Assumere altri tizi Ecco Ok, prendiamo le ruote Le mettiamo nella macchina Così Un, due E tre Quattro Ok, perfetto Ok, vedi che loro tipo lo fanno Tipo fanno tutto automatico Così Sì, fanno tutto loro È facile così Ora vedo se riesco a prendermi abbastanza soldi Per prendere un'altra persona Allora Vediamo un attimo Grazie Sì, 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 sì Eh, già Proprio io Mi dia Tutto 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 mio Non ho più Robux No, mezzo Dopo un po' Sai che non ce l'ho neanche io Devo fare un po' di ricarica Un attimo Eh, fatti Sai che dovrei farla anche io Una ricarica Eh, sì, dovrei Dovei Allora, aspetta Ecco, saldatura Saldatura Oh, ce l'ho fatta anche se era fuori Benissimo Saldatura Ecco, perfetto Ok Ottimo Ecco, prendiamo Altre roba Cos'è? Ah, vabbè Ma ogni volta Cioè, diventa sempre più complicato Comunque fare Il vetro qua Ok Uno Due Tre E quattro Ok, dovremmo esserci Vediamo questo quanto mi dà Dai che voglio comprare un botto di roba Eh, 66.000 Non posso neanche comprare comunque Cioè, dovrei mettermi qua a nerdarmela Praticamente Eh, già Dovrei nerdarmela Quanto mi dai per questa macchina Signorone Signorone Dai, forza Fammi vedere Fammi vedere quanto mi dai Ma vediamo Ma ci sono due a rischio E uno solo Che potrebbe forse Non riuscire a scammarmi Cacchio Che ero solo uno Uno che tipo Non mi scammava Porca miseria Eh, ti vogliono scammare tutti Invece a me danno i soldi A me danno tutti Io ho un No, in realtà L'unica ad essere scammata Quasi è stata te finora Ah, perché ho provato Ma per una volta Per una macchina schifosa Adesso io vendo le macchine Wow E non mi scammano mai Io adesso Ho un botto di Eh Di persone assunte Nell'azienda E ho fatto la macchina In due secondi Mi manca l'ultima Persona da assumere A me pure l'ultima Ok Metto tutte le varie cose Ma che si può assumere Anche la persona che mette I materiali davanti Eh, no Non penso Cavolo, però servirebbe Ok Ok Dai, dai L'alto Prossimo Ecco qua Ok Vediamo Ecco Dai Mamma mia Sì, ma ci mettono Un pochissimo tempo Oddio Già è arrivato il tizio Che mi aveva fatto la Speriamo che non vengo scammato Ti prego Sì Vai Mi ha dato i soldi Meno male Quanto ti ho dato? Eh, 48.000 Mamma mia Era praticamente quasi al rischio 48.000 Io li ho presi 48.000 Quasi al rischio Lascia perdere Quasi al rischio Mamma mia Devo prendere il tizio Che mi mette le ruote È una ruota di scala Ah, io l'ho preso Già Come? Già? Ah, sì Perché sono più forte Ever Eh, vediamo 90.000 90.000 Eh, mannaggia A me Dai, intanto voi mettete F qua Ecco, vi metto Questo e questo Ma non posso farli andare più veloce Questi tizi Eh, ma chissà Magari c'è un modo Tipo per velocizzarli Rinascita 1 500.000 Ah, se tipo fai rebirth Cioè, se nasci di nuovo Tipo rinasciti Cominci tutto da capo Ma incominci tipo con Tipo le cose più fighe Capito? Ah, ok, 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 ok Oddio C'è un tizio con una macchina assurda Che mi è passato per casa Ah, attento Non farti a calapiare Zoe Ah, no Farei che voglia farlo Io ci salgo Wow, che macchina Cosa? No, Zoe Ma che cosa? Ma io speri Quando mi spunterai con una macchina da spallo Va bene Dimmelo Fammi un fischio Va bene Dai però Ma io non capisco Come faccio a giocare con le macchine Cioè, la macchina che ho spawnato io Penso si Penso si debbano comprare nel Negozio Cioè, tu le crei Le costruisci Però non è che Cioè, che ti aspettavi 144.000 Ok, ora posso prendermi l'ultimo Employee E in teoria dovrei Ah, Massimo Ok Cos'è questo? Le scatole Cosa fanno le scatole? Ah, aumento praticamente il volume Eh, ho capito Ok, aumenti il volume Sì, sì Posso permettere le cose Così le butti là Quelli lavorano Ciao A domani Ok, eh beh Mamma mia Guarda un po' Perché mi serio Sto facendo veramente il deridio Con queste robe Ok Guarda quanto lavoro No, vabbè Zoe Praticamente adesso Ora che ho preso tutti gli employee Mi fanno una macchina Un velocissimo Sì, ma qui io uguale Oh mio Dio Ok, beh Dovevamo farlo Dovevamo farlo Eh, dovevamo Dovevamo Infatti Io intanto prendo la prossima macchina La Brunaut Cleo No La Brunaut Cleo Come si chiama? Sì, è della massima Brunaut Cleo Cleo Ah, ok Non lo so Però è l'ultima Poi non ce l'ho più È l'ultima, vero? Dopo quella abbiamo finito le macchine E poi dobbiamo semplicemente comprarle Eh già Mi sa che abbiamo un po' lasciato Comprando quei Sì, beh, è vero Mamma, mi abbiamo fatto Un botto di roba In pochissimo tempo Vabbè, ci sta Eh, sì, ci sta Hai ragione Quanto costa la Brunaut Cleo? 150.000 150.000 Ok 150.000 110.000 Dai, prendo l'ultima Prendo l'ultima Prendo l'ultima Ci riesco Dai, mi hanno truffato C'erano tre No, vabbè Non ci voglio credere, Zoe Mi hanno truffato Ti giuro T'erano tre che ti scammavano T'erano tre che mi scammavano Quello con Ho preso quello di me E mi ha scammato No Quello di me l'ho preso Ti rendi conto? Sì, me ne rendo conto Non ci voglio credere E devi prendere quello di più Magari ti In questo video In realtà dovevo necessariamente Essere truffato Altrimenti non andava bene Esatto Certo, perché non potevo essere scammato Solo io Vale, voglio avere però La macchina Quella tipo bella Io Pure io Dobbiamo andare per facciare A comprare A prenderlo allo shop Eh sì, ma come fai Metti un po' Ma io ce l'ho accanto Quindi ci vado Sì, ma quanti soldi hai Per andare a prendere una macchina figa Stai zitto Eh, 157 Dai Mettendo Prendo la macchina qua Opla Ok Prossima auto Se questo video ti è piaciuto Mi raccomando Vai a guardare questi altri video E mi raccomando Iscriviti al canale Lascia like E ricorda che questo è un nuovo canale Sbrisera e fare Z E facciamo contenuti di Roblox qua Ciao, ciao Yuhuuu, ciao